Ehi amico, che gran pacco! Proprio l'altro giorno è arrivato questo bel paccozzo e non me l'aspettavo sinceramente. So più o meno cosa c'è dentro questa volta, perché sì, so più o meno cosa c'è dentro, però volevo fare l'unboxing insieme a voi. Quindi direi bando alle cianze e scopriamo cosa c'è al suo interno. Arminiamoci di cutter. E piano piano abbiamo il paccozzo. Ollè! Meglio che... Io so cos'è, io so cos'è... Ah, eh, questo non me l'aspettavo però. Oh l'allero! Blackout e Grimlock Studio Series. Che figata! Farò due review spettacolari, le farò sicuramente in stop motion, non so se quella di Grimlock dovevo vedere la trasformazione, ma sicuramente quella di Blackout verrà fuori una cannonata. Ho già in mente tutto lo script, non vedo l'ora di farla. Bene, bene, bene. Direi che adesso li tiro fuori, me li studio per benino e ci faccio la recensione più figa del 2018. Al prossimo video! A presto. B A presto. A presto. Grazie a tutti.